Il primo meeting dell'italiano presidenza è un meeting dell'Essing Ma chi te crede? Ci indigrò, forse! Il meeting in cui i politici non sono... ...e... ...e...traditional way of approach in the...official meetings Ha sentito, presidente? Te l'ha detto? Ah! L'hai detto, l'hai detto! Meeting, listening of debates, and also of ideas, because I think in this moment, ideas will save Europe Discussion about l'dedegetta Eccetà! About l'dedegetta About l'dedegetta About l'dedegetta About l'dedegetta About l'dedegetta About l'dedegetta But also about the space Venice is not a normal city Venice is a beautiful city Disgraziatamente una terribile malattia l'ha ridotto così But it's a...demonstration A jingle bell, jingle bell when the sun arrives Of a city Ma lo diciamo cazzate! Eccetà! Grote Pet'm All can